Ho scelto di studiare a Urbino, nello specifico nel corso di lingue e culture moderne, perché permette di affiancare le competenze linguistiche con delle competenze economico-turistiche che aprono più porte nel mondo del lavoro. L'avvicinanza che si ha con i professori, in particolar modo con i professori di lingua, questo consente di sviluppare in maniera ottima l'utilizzo delle lingue. Oltre l'80% delle nostre studentesse e dei nostri studenti trova lavoro a un anno dalla laurea. Potranno svolgere attività lavorative nell'ambito del marketing e della comunicazione internazionale e nell'ambito del settore turistico o di quello dello studio elettorale. È stata un'esperienza che mi ha aiutato molto a crescere a livello professionale. Questo mi ha consentito di mettere in pratica ciò che ho effettivamente studiato. La preparazione che mi è stata fornita mi consentirà di affrontare al meglio qualsiasi percorso, sia in Italia che nelle università all'estero. Grazie. 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 Grazie.